Matteo, benvenuto ad Ascoli, raccontaci come è nata l'idea del tuo trasferimento in bianco-nero e quando è nata? Ma è stata un'operazione velocissima, mi aveva contattato il mio procuratore chiedendomi della mia disponibilità di fare questo scambio qui con Ingrosso. Non c'è stato nessun problema, poi non c'è stato nessun problema sull'aspetto contrattuale ed economico, quindi è stata un'operazione veloce svolta nell'ultimo giorno e mezzo, quindi è stato velocissimo. Poi è una grande esperienza sia in Serie A che in Serie B, come è andata l'ultima esperienza a Foggio, soprattutto nell'ultimo periodo? Ma ti devo dire, in Lega Pro bene, poi nell'ultimo anno devo dire sia verità, ho sofferto un po' il fatto comunque anche come è stata gestita un po' la situazione. Logicamente sono onesto, avevano preso un giocatore come Krager che è forte e quindi mi sono messo a disposizione, facevo la sua alternativa, quindi non c'era nessun problema. Però sono state gestite un po' così e quindi ho sofferto un po' sotto quel punto di vista lì. Comunque il calcio è anche questo, ho questa nuova avventura, questa nuova possibilità per mettermi in mostra, sono qui con tanta voglia di fare e dare una mano a questa squadra. Quindi non porto nessuno a cuore, ma anzi ho tanta voglia per mettermi in mostra. Terzino sinistro puro, ti giocherà il posto su quella fascia con Salvatore Delia, un altro elemento di esperienza per questa categoria? Sì, è un giocatore forte, già lo conoscevo. Sicuramente non sarà facile togliere il posto a lui, ma penso che comunque una sana concorrenza ci deva essere. Poi sceglierà il mister domenica chi scenderà in campo. Che gruppo hai trovato e come t'hanno accolto i nuovi compagni e se conoscevi qualcuno già di loro? Mi hanno accolto molto bene, non c'avevo nessun problema sotto questo punto di vista qui. Sì, qualcuno conoscevo, sia Casarini, Beretta, quindi non c'è stata neanche tanta difficoltà ad inserirmi. Sono contento di essere qui e quindi vedo l'ora di cominciare con la Salernità, questa nuova avventura. Mister Vivarini, che impressione ti ha fatto? No, buona. È bene, è un grande lavoratore. Già con il Lecce, anche se non abbiamo giocato, ogni dettaglio non lo lascia da parte, anzi mira sempre alla perfezione. Questa settimana qui stiamo lavorando molto con il prof, ma anche poco, vabbè, tatticamente comunque siamo in pausa. Quindi devo dire che comunque si fatica, ma io sono contento perché alla fine poi al sabato non fai fatica. Fai fatica durante la settimana, ma al sabato no. Come la possiamo leggere? La classifica, ovviamente noi adesso abbiamo un turno di riposo, non abbiamo giocato a Lecce. Tu hai una grande esperienza. L'obiettivo ovviamente è che la società è una salvezza tranquilla, ma pensi che con questo organico e questa qualità l'Ascoli possa ambire a qualcosa di più, anche perché questo è un campionato particolare. Non avrai mai giocato, immagino, un campionato di Serie B a 19 squadre. Devo dire che comunque le qualità ci sono, perché come ho detto prima ci sono giocatori di esperienza, ma anche tanti giovani di grosse qualità. Logico è ancora un campionato lungo, non c'è nessuna mazza a campionato, perché non c'è mai una partita che comunque anche se perdi 2-0 la puoi vincere 3-2. Bisogna sempre stare sul pezzo, penso che comunque la salvezza sia la cosa primaria. Poi se siamo in grado ad ambire o a sfruttare magari qualche occasione che qualcuno lascia per strada, dobbiamo coglierla in fretta. Chiudiamo parlando di Lecce. Fortunatamente Scavone sta meglio. Tu c'eri. Cosa hai vissuto e avete vissuto dal campo e se consideri giusta, come immagino, la decisione di sospendere e poi rinviare il match? Lì per lì, dopo che aveva preso la botta che era caduta per terra, non ci rendevamo conto molto della gravità. Poi comunque quando è entrata l'ambulanza non si capiva cosa c'era, allora abbiamo capito che qualcosa di particolare era successo. Dispiace perché comunque è sempre un collega, la decisione è stata giusta, perché comunque loro non si assentivano, quindi era giusto anche dalla nostra parte dare un segnale a tutti quanti. Dispiace comunque per questo fatto, ma dispiace anche non aver giocato, perché comunque stiamo bene, quindi dobbiamo giocare, perché star fermo due settimane non è facile, perché ora ci abbiamo la sosta e poi riprenderemo con la Serenitana. Ormai è andata, adesso dobbiamo lavorare, metterci sotto per arrivare con la Serenitana e vince.